Eccoci quindi qui ragazzi, allora l'Inter vince nuovamente in casa per 2-1 contro un'ottima Fiorentina vince una partita molto bella e combattuta, ottiene la sua seconda vittoria consecutiva, terza se consideriamo la Champions League e arriva a quota 10 punti stagionali aspettando ovviamente le partite che si giocheranno domani sera Allora, permetto prima di tutto che qualsiasi altra partita dopo Bologna-Roma per me sarebbe stato uno spettacolo anche se mi fossi messo a vedere pizzichettone, procaccolese, amichevole, per me sarebbe stato uno spettacolo più bello di Bologna-Roma Nonostante ciò però, anche se l'ultima partita che ho visto è stato uno schifo, Inter Fiorentina è stata davvero una bellissima partita tra due squadre che in un modo o nell'altro stanno facendo molto bene, almeno in quest'ultimo periodo L'Inter si sta confermando una squadra molto cinica ed abile a colpire nei momenti più importanti della partita Né esempio lampanti il fatto che nel secondo tempo non sono riusciti praticamente a fare quasi nulla Eppure gli è bastato vedere un buco nella difesa della Fiorentina all'ottantesimo e sono riuscito a segnare con un bel gol di Danilo D'Ambrosio Questo vuol dire, diciamo, sfruttare al massimo le proprie occasioni E in questo bisogna fare anche una critica alla Fiorentina che ha fatto a suo modo un'ottima partita E' veramente una squadra che quest'anno può sorprendere sotto tutti i punti di vista Però ha fatto quella cavolata alla fine che gli è costata caro Dopo l'azione offensiva tu non puoi scioglierti così all'improvviso a livello difensivo E' bastato che l'Inter facesse due tocchettini La difesa è uscita malissimo E' uscita perché Vito Rugo per quanto ha fatto una buona partita è stato un po' colpevole su entrambi i gol segnati dall'Inter E' uscito male a valanga e si è aperto un buco clamoroso E quindi D'Ambrosio ne ha approfittato Quindi in questa partita si sono viste due cose importanti La prima è che la Fiorentina nonostante la sconfitta è in un ottimo momento di forma Ed è una squadra che con la velocità dei vari chiesa, piazza e il talento di Simeone e Veretù Gioca veramente bene, gioca al calcio E secondo me almeno questa sera non avrebbe meritato la sconfitta Quello che però vi voglio dire è che tu per poter ottenere un risultato devi far sempre attenzione Soprattutto se sei contro una squadra al quale senza togliergli nessun merito sta andando tutto bene Perché è successo anche a noi storicamente, anche con lo stesso Spalletti Ci sono momenti in cui ti gira tutto storto come inizio stagione dell'Inter Adesso ci sono momenti in cui ti gira tutto bene Magari non giochi benissimo e segni al 95esimo Gli avversari ti attaccano e sul ribaltamento di fronte fai un'azione e segni Lungi da mai dire che l'Inter finora sta avendo solo culo, cose di questo genere Però è comunque in un momento positivo in cui anche le cose difficili magari gli riescono Parlando un pochino degli episodi da VAR, faccio una puntata di VAR dentro questa recensione Il rigore c'era, è stato generoso, diciamo la verità, generoso Però ci sta perché Vitor Hugo è saltato con le braccia troppo alzate Il pallone è praticamente sfiorato con le unghie, si vede proprio che l'ha sfiorato Però sinceramente ho visto rigori molto più scandalosi dati e molto più scandalosi non dati Adesso l'ho detta un pochino male, però ricordiamoci per esempio Iago Falch l'anno scorso contro la Lazio, l'ha preso così e non gli hanno dato rigore Quindi sotto questo punto di vista diciamo che ci può stare aver dato questo rigore Anche se non è stato particolarmente netto Poi nel secondo tempo, anzi forse nel primo, c'era un possibile rigore su D'Ambrosio Ma secondo me era molto generoso, ancora più di quello dato Poi poco prima del gol del 2-1 c'è stato un contatto molto dubbio in aria di rigore Però diciamo che a Samoa, credo sia a Samoa che a Politano che ha spinto Chiesa in aria Comunque Chiesa stava per cadere, l'ho rivista all'inizio e poi pariva chiaramente rigore Poi riguardandolo ho visto che comunque Chiesa stava già per cadere E quindi seppur in maniera particolare comunque è giusto che non ha dato rigore Un episodio in cui secondo me però l'albitro ha sbagliato è l'espulsione mancata ad Asamoah Asamoah che era già ammonito ed ha colpito in ritardo l'attaccante della Fiorentina E quindi in quel caso secondo me pur senza cattiveria ma al secondo giallo ci poteva stare Per carità non so quanto poteva cambiare Però è giusto un episodio che ci tenevo a sottolineare Se fosse stato per la Fiorentina sarebbe stata la stessa cosa quindi non mi venite a dire che rosico o cose di questo genere Sì effettivamente sto rosicando perché quando squadre come Inter, Milan, Lazio, Juve e compagnia vincono non sono mai contento Però che vedevo fa? Cioè tocca guardarle semplicemente da esterno e sperare che la Roma riesca domani a vincere col Fosinone E non è certo una cosa scontata Cioè rendiamoci conto io adesso non pretendevo di vincerle tutte Ma almeno di essere un po' tranquillo prima di giocare col Fosinone E in realtà arriveremo a questa sfida che non dico che siamo sfavoriti però poco ci manca E la vittoria dell'Inter ci deve comunque far mettere in testa che non possiamo continuare a perdere altro terreno contro queste squadre Perché già adesso sono a più 5 nonostante un inizio sottotono come noi Se noi non vinciamo col Fosinone è fatto veramente Adesso mancano 32 partite ma rendiamoci conto che i punti contano adesso come contano alla fine Quindi non ne perdiamo oltre perché veramente va a finire malissimo Va a finire malissimo non dico altro Detto questo ragazzi fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate di Inter Fiorentina 2 a 1 Spero che vi sia piaciuta questa mia analisi riassuntiva Fatemi sapere se volete magari un'analisi più approfondita oppure ancora più riassuntiva di questa Quello che volete voi Ci vediamo domani per la recensione non farò la live ma farò la recensione di Roma Frosinone un saluto sempre e comunque Forza Roma Ciao ragazzi Grazie a tutti Ciao